Ah, l'amore, un sentimento unico che ci unisce e ci completa, un percorso di coppia con la tua dolce metà che trova la propria coronazione a San Valentino, la festa degli innamorati, un'occasione in cui finalmente potrai spendere fino all'ultimo centesimo che avrai trovato arraschiando i cassetti in peluche dal dubbio gusto, cioccolatini scaduti e ristoranti che ti spenderanno vivo alzando i prezzi puntando sulla tua fame di fig... sempre che troverai posto, perché, come al solito, avrai aspettato fino all'ultimo per prenotare, quindi probabilmente ti troverai a fare il cuore col ketchup su un panino al McDonald's, edizione speciale Joe Bastianich, chiaramente per l'occasione. Ah, quanto odio San Valentino. Benvenuti a Predicozzi, monologhi non monotoni sulla attualità a cura del canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram e TikTok, nonché su Amazon e nelle migliori librerie con il mio libro Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere del populismo? San Valentino è una festa quasi globale che si celebra da oltre 600 anni in tutti e sei continenti. Sette se consideriamo anche l'Antartide, visto che i pinguini imperatore è proprio in quel periodo lì che cominciano a pensare al rimorchio selvaggio. E scusate se non trovo al mondo alcuna immagine più romantica di un pinguino grassoccio che si cova l'uovo tra le cosce al freddo sotto la neve mentre aspetta il ritorno della propria amata. Un po' come me, con la birra, mentre aspetto che la mia ragazza torni dalla classica interminabile coda al cesso delle donne. D'altro canto, l'amore è un sentimento che tutti possiamo provare, quindi tutti non vediamo l'ora di poterlo celebrare. Quindi, solitamente il 14 febbraio, ma non da tutte le parti è così, le coppiette si prendono un giorno per ricordarsi quanto si amino, mentre nei restanti 364 si prendono a botte per decidere chi deve lavare i piatti. Santa Candy, solo tu sai quante relazioni hai salvato durante il tuo periodo di garanzia. Da noi italiani, gente normale, per natura più evoluta, avendo noi il bidet, prove scientifiche e schiaccianti, San Valentino si celebra donando cioccolatini, fiori o con una romantica cenetta a lume di candela in cui lei pensa... com'è romantico, mentre lui solitamente pensa... SICCHIA! Ma ogni paese ha le proprie celebrazioni, ad esempio in Germania vanno forti i cioccolatini a forma di maialino, in Spagna si regalano le rose rosse, ma in Catalogna si festeggia il 23 aprile, mentre gli uomini regalano rose rosse, le donne regalano libri. A proposito... Hola chica, schiere su una suggerenza para una buena lectura? Cascina e speranza! È il regalo con il Ketodo e ombre Karatu Pies! In Giappone sono le donne a regalare cioccolatini, mentre gli uomini dovranno ricambiare un mese dopo durante il White Day. In Cina si festeggia cinque volte, mentre in Galles vanno forti i cucchiai di legno. Nei paesi del Nord Europa invece vanno fortissimo le lettere anonime, stile Anonima Sequestri Sarda degli anni Ottanta. Ora, non da tutte le parti in realtà si festeggia e voi direte... Gross, ma allora comprati un biglietto di sola andata e non romperci le scatole a noi! Beh... non è così semplice. In Indonesia e Emalesia, ad esempio, è stata bandita poiché ritengono che la tradizione romantica della celebrazione porti al sesso occasionale. E solo Dio sa quanto ci faccia schifo il sesso occasionale. Una sorte simile anche in Arabia Saudita, dove addirittura sono state bandite le rose e i regalini in concomitanza del 14 febbraio. Festeggiando si celebrerebbe un santo cristiano ed inoltre si incoraggerebbero i rapporti tra uomini e donne non sposati. E solo Dio sa quanto ci facciano schifo i rapporti tra uomini e donne non sposati. Chiudiamo con Iran e Pakistan, dove gli integralisti islamici ritengono che San Valentino sia una volgarità importata dall'Occidente. E solo Dio sa quanto ci facciano schifo le volgarità importate dall'Occidente. Comunque, in sintesi, ora sapete perché Boldi e De Sica non hanno mai fatto Natale a Islamabad. Ma gli integralisti islamici non sono gli unici nemici giurati di San Valentino. C'è anche San Faustino, un santo la cui ricorrenza accadeva il 15 febbraio, uno di Brescia, e quindi gli hanno appioppato l'appellativo di patrono dei single. Non che San Valentino c'entrasse poi molto con gli innamorati, eh. Tutto ebbe inizio nell'antica Roma, con i Lupercalia, una celebrazione che cadeva a metà febbraio, un mese purificatorio e di rinascita, in cui si festeggiava il dio Fauno nella sua accezione di Luperco, il protettore del bestiame. Erano feste un pelino divertenti, in cui si usava a fare cose bizzarre, come sacrificare animali, di cospargersi il corpo di sangue e correre in giro seminudi a frustare matrone e donne incinte che ti si offrivano in quanto devote al dio Fauno. So ragazzi. Stranamente ai cattolici la festa non piaceva, e così nel 496, Papa Gelasio, il primo Papa Buono sponsorizzato dall'Algida, decise di istituire una festa in sostituzione più casta, dedicandola agli innamorati e a San Valentino. Ora, chi era San Valentino? Ci sono diversi indiziati e probabilmente il risultante è una crasi di diversi santi, ma il più probabile è San Valentino da Terni, un signore morto proprio il 14 febbraio 273 o 274, quindi perfetto per farci su una storia e diventarlo, diventarlo, farlo diventare il patrono degli innamorati. San Valentino da Terni era il santo protettore degli epilettici, ma, per l'occasione, riuscì a fare diversi miracoli, tra cui unire in matrimonio un pagano e una cristiana e placare l'alite tra due innamorati donando loro una rosa. Vacca che superpoteri! Un bangladino lo fa uguale alla modica cifra di una rosa un euro, due rose due euro. Tutto molto bello, quindi, molto poetico, molto romantico. Ma allora perché continuo a sentire una vocina che vuole farmi odiare San Valentino a tutti i costi? L'inizio della fine arriva a metà ottocento, quando l'imprenditrice statunitense Esther Howland, la cui famiglia produceva libri e carta intestata, decise di commercializzare le valentine delle lettere dedicate agli innamorati per San Valentino. Beh, l'idea funzionò e quindi da cosa nasce cosa in tanti la copiarono e sul mercato arrivarono tantissimi nuovi articoli come cioccolatini, peluche, portachiavi, pere a forma di cuore, cuscini quelli con le paillettes che ci passi la mano e cambiano colore, ce l'hai presente? Quelli poster con scritte glitterate in World Art 2001, costumi da segretaria di parlamentare medio Italia. San Valentino diventò a tutti gli effetti una commercialata che unisce le due passioni principali del milanese imbruttito, la figa e il fatturato. Vedo giusto un numero per quantificare il fenomeno. Ogni anno, in Italia, tra cenette e regalini si spendono in media 500 milioni di euro l'anno, che sono più di 80 euro a coppia in media. Ormai è un business globale con dei veri e propri flussi commerciali ben definiti. Chiaramente la maggior parte delle cose arrivano dalla Cina, però facciamo un esempio dei fiori. Un italiano su tre regala fiori a San Valentino. Questi fiori non tutti li puoi raccogliere nel giardino dietro casa. I veri romantici li rubano al cimite. Alcuni arriveranno dall'estero. Ad esempio, Confagricoltori stima che nove rose su dieci arrivino da Sud America e Africa. Anche perché risulta difficile soddisfare la domanda locale con i fiori coltivati in inverno. Insomma, cioè, o usi le serre, quindi fai felice Putin con il gas, oppure usi il vecchio metro del bue e dell'asinella, ma non è che hai molte altre alternative. Il risultato è che un fiore deciso su quattro, ad esempio, arriva dall'Africa. Ci sono paesi come l'Etiopia, ad esempio, che hanno radicalmente modificato la propria economia, il proprio tessuto industriale per attrarre investimenti dall'estero e produrre per l'estero. E quindi ora, ad esempio, i fiori sono il terzo prodotto più esportato del paese. Con buona pace delle condizioni dei lavoratori, un pelino sfruttati forse, ma per attrarre investimenti dall'estero, insomma, questo ed altro. E poi senti che profumo questa rosa. Se siete degli inguaribili romantici e non volete credere che sia una festa stabilita a tavolino solo per fare qualche quattrino, vi svelo un segreto. Non è né la prima né l'ultima volta. Ad esempio, restando a tema innamorati, in Brasile il 12 giugno si festeggia il Dia dos Namorados. 12 giugno perché un'azienda aveva bisogno di ampliare le proprie vendite a giugno e ora è la terza festa per vendite del paese dopo il Natale e la festa della mamma. Oppure in Cina, in cui il single day, che cadeva l'1 novembre, è stato trasformato nel giorno in cui l'e-commerce esplode e diventa la giornata con più vendite online al mondo. Ah, che bello quando le tradizioni e le celebrazioni vengono sfruttate dal capitalismo per arraffare qualche quattrino in più. chissà cosa possiamo inventarci ancora. Il giorno dell'odio in cui regaliamo frustini e tutine in latex? O il giorno della bellezza in cui doniamo botox? Oh, io ve lo dico, il 14 giugno cade l'anniversario della fondazione del canale di Gross. Ecco, io comincerei a pensare a qualche regalino da inviarmi, se no poi mi offendo. Poi da cosa nasce cosa. Sia mai che sia la volta buona in cui le lobby mi pagano veramente. Predicozzi è un podcast di Il Canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram, TikTok, Telegram e pure Waveful. La soundtrack è a cura di Tecnoaxe. Trovate tutti i link per approfondire nella descrizione. Grazie. 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 Grazie.